Anch'io ho i miei alti e bassi come ogni altra persona, forse anche più di altre persone ogni tanto. A volte mi sento triste, arrabbiato, sento che nessuno mi può capire. Ho avuto così tante esperienze negative che non riesco più a fidarmi di nessuno, preferisco tenermi tutto dentro. Faccio fatica a volte a dormire, ho dei pensieri, dei ricordi che mi disturbano e che non riesco a togliermi dalla testa. Faccio fatica a fare le cose che facevo prima con lo stesso entusiasmo e se succedesse a qualcuno che conosci, se vedi un tuo amico, una tua amica, comportarsi in modo diverso dal solito, magari si arrabbia senza ragione, si isola e non vuole parlare con nessuno, ogni tanto sembra assente o disinteressato a quello che gli succede attorno. Non vuole pensare al futuro, a problemi a dormire. Potrebbe essere solo un periodo o una reazione temporanea a una situazione difficile, ma potrebbe esserci qualcosa di più. Prova a chiedergli. C'è qualcosa che non va? ti va di parlarne? C'è qualcosa che posso fare per te? Come posso aiutarti? Oppure? Mi dispiace che stai così male, affronteremo questa cosa insieme. Soprattutto puoi dirgli. Ci sono delle persone che possono aiutarti a stare meglio, che sono sempre disponibili. Sarai tu a decidere se continuare o meno a essere aiutato. L'importante è provarci. Potrai accompagnarlo a fare il primo passo. A volte basta poco per far capire a qualcuno che non è solo o sola. Aiutalo tu a trovare la forza, il coraggio di parlarne con qualcuno a cui si fida, a cui può chiedere aiuto. Se lui o lei non vuole chiedere aiuto e hai bisogno di una mano per capire come aiutarlo, puoi anche tu chiedere sopporto. Hair for you è uno servizio di ascolto, di sopporto creato proprio per ragazzi e ragazze che stanno attraversando momenti difficili. Hair for you è uno spazio protetto di ascolto e di sopporto psicologico dove puoi trovare persone esperte aiutate da mediatori linguistiche e culturali che parlano la tua lingua, che ti possono aiutare a capire come superare la situazione difficile che stai attraversando. Scrivi un messaggio su Messenger, sulla pagina Facebook di YouReportOnTheMove, sarai ricontattato. Il servizio è totalmente gratuito e anonimo.